L'elegante guardaroba di Meghan Markle è diventato più casual da quando lei e il principe Ferri si sono trasferiti negli Stati Uniti, anche se le sue scelte sartoriali rimangono in contatto con i suoi parenti reali. E lo stile della 41enne è molto simile a quello della sua defunta suocera, la principessa Diana. Meghan Markle spesso esce in abiti smart casual, cioè quando non partecipa a eventi glamour o premiers in abiti sorprendenti. Mentre è nota per prediligere camice a maniche lunghe, jeans e blazer dal taglio classico nei mesi più caldi, la duchessa del Sussex è anche una fan dei pantaloncini. In diverse occasioni, la madre di due figli, è stata vista indossare varie paia che lusingano la sua figura snella e le sue gambe toniche. Completi di vita alta con cintura e forma leggermente svasata, gli stili preferiti di Meghan sono meglio conosciuti come bermuda. Ed erano un capo distintivo nel guardaroba estivo della defunta principessa Diana. Mentre il taglio al ginocchio è più modesto e appropriato per le donne reali, che raramente si vedono indossare pantaloncini in occasioni non sportive, anche lo stile bermuda è molto di tendenza. Dopo essere tornata al punto di partenza da quando è stata resa popolare negli anni 90 da icone di stile come la principessa Diana, Meghan è stata per anni una chiara fan del look elegante. All'inizio di aprile la duchessa è stata vista sfoggiare un coordinato sartoriale rosa composto da pantaloncini, e un blazer abbinato. Ha abbinato il look straordinario con tacchi a spillo color carne, e un semplice top bianco per dare all outfit elegante un tocco più rilassato. L'ensemble era in linea con il guardaroba classico di Meghan, ma sembrava anche ispirato a un look spesso indossato dalla sua defunta suocera. Nella sua vita adulta, Diana ha indossato una serie di coordinati di blazer e pantaloncini. Uno dei suoi più memorabili, è stato un elegante capo blu scuro.